Ben ritrovati in questo nuovo video dove parleremo di scarico dell'allenamento. Che cos'è e perché è giusto programmarlo? Intanto lo scarico di allenamento non è nient'altro che una modulazione, anzi più correttamente una riduzione delle intensità o dei volumi di carico per permettere all'atleta di attuare al meglio tutti i processi super compensativi al fine di migliorare la performance. Ma non è solo questo, perché lo scarico di allenamento ha anche una funzionalità ancora più importante, cioè prevenire eventuali infortuni. Infortuni che possono verificarsi a causa di uno stress cumulato nel corso delle settimane e non adeguatamente compensato. Ed è così che lo scarico di allenamento possiamo decidere di collocarlo o al termine di un meso ciclo allenante o addirittura possiamo programmarlo all'interno di tutte le settimane, magari con una seduta in cui chiaramente l'intensità e i volumi saranno molto più bassi e permetteranno così all'atleta di recuperare adeguatamente dallo stress accumulato nelle sedute precedenti. Attenzione però a non cadere vittime di alcuni falsi miti riguardanti lo scarico di allenamento. Per esempio alcune persone sono solite fermarsi, interrompere gli allenamenti per qualche giorno, per una settimana. Lo scarico però non è questo. Significa continuare ad allenarsi, ma riducendo le intensità o i volumi che si andranno a svolgere. In questo contesto, quando parliamo di programmazione avanzata dell'allenamento, si avranno delle sedute all'interno del microciclo settimanale dove si ridurranno per esempio le intensità o i volumi. E al termine della stagione agonistica ci sarà invece un periodo prolungato dove effettivamente l'atleta andrà in scarico per agevolare poi i processi supercompensativi e prepararsi per la nuova stagione agonistica. Noi vi lasciamo qui in descrizione un articolo di approfondimento e per tutti coloro che sono interessati a queste tematiche vi invitiamo a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati di settimana in settimana. Noi vi ricordiamo che i video postati sul canale Corebo sono di carattere informativo e non intendono nella loro brevità esaurire la complessità del tema trattato. Noi vi ringraziamo per averci seguito e come sempre ci rivediamo al prossimo video. Noi vi ringraziamo per averci seguito